Buonasera a tutti, benvenuti a Urban Lab e benvenuti a questo incontro che abbiamo organizzato nell'ambito di Biennale Democrazia. Io sono Giulietta Fassino e mi occupo della programmazione culturale di Urban Lab e, come forse saprete, Urban Lab si occupa, osserva e cerca di raccontare come cambia la città. Solo due parole per spiegarvi il perché di questo incontro. Proprio nel nostro osservare un po' il dibattito pubblico sulla città abbiamo visto che i temi offerti da Biennale Democrazia quest'anno ci hanno offerto un'ottima occasione per provare a riflettere su un fenomeno che abbiamo visto accelerarsi straordinariamente con la pandemia e appunto con la crisi che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni. Ovvero abbiamo visto che nel dibattito pubblico c'è stato un affastellarsi, un riproporsi, perché comunque sono fenomeni che esistevano già, ma è come se ci fosse stato un accelerarsi di queste proposte di nuove immagini di città, di molte retoriche urbane che appunto sono state un po' utilizzate come possibile vie di fuga rispetto a una situazione critica che le città stanno vivendo. Per questo abbiamo pensato che appunto il tema proposto da Biennale, un pianeta, molti mondi e nello specifico quello dedicato ai nuovi mondi, ovvero alle riflessioni che stanno circolando rispetto alla costruzione di una città del futuro, di quale possa essere il futuro della città, abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto provare a discutere di questa fortuna critica e di come funzionano queste immagini di città con alcune persone che hanno a che fare con i temi urbani per la loro professione. Sono persone che hanno competenze ed esperienze diverse, quindi ci piaceva mettere a confronto punti di vista differenti rispetto allo studio, all'osservazione ma anche alla pratica delle politiche urbane. E quindi a questo punto io passerei la parola a Matteo Brambilla che abbiamo, che ha gentilmente accettato di coordinare questo incontro. Matteo è un esperto di politiche urbane, diciamo, accompagna insomma per organizzazioni come Che Fare o la società di cui è fondatore Fromm, un po' la costruzione anche di reti e di iniziative che puntano ad uno sviluppo, diciamo così, di politiche, di riflessioni, di pratiche per la città. Quindi ti passo la parola. Grazie. Grazie mille. Buon incontro. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Un piacere davvero essere qui dal vivo che già è un qualcosa di rilevante e anche con chi è collegato in streaming. Integro l'introduzione con solo altre due o tre parole poi diamo la parola ai nostri ospiti. Io sono Matteo Brambilla, mi presento prima. Sono partner e fondatore di una società che si chiama Fromm, che supporta attori di varia natura nello sviluppo dei contesti urbani, collabora anche con Che Fare e sono, diciamo, tra i coordinatori di una newsletter che si chiama Segnali dal Futuro, che è una newsletter collaborativa che è partita appunto dalla riflessione, dalle speculazioni sull'immaginario dei temi urbani per poi allargarsi e andare su altre tematiche. Vorrei mettere a punto due o tre cose, prima di passarvi la parola, che sono le solite cose che si dicono sulle città, però secondo me è utile a partire da queste per avviare questo tipo di riflessione che sono, vabbè, che già oggi metà della popolazione a livello globale, che ormai è il mantra che ci diciamo a inizio di un incontro, vive nei contesti urbani e a tendere saranno sempre di più che i grandi agglomerati urbani sono da un lato grandi produttori di emissioni e di inquinanti ambientali e anche produttori di forti diseguaglianze a livello economico, sociale e di frizione dell'ambiente. Ma dall'altro lato, anche storicamente, questo direi da svariate migliaia di anni, le città in quanto principalmente probabilmente alla loro densità e alla diversità delle persone che le abitano e le vivono, sono anche dei produttori giganteschi di innovazioni, sotto vari punti di vista. Oggi, come dicevamo, rifletteremo sul tema delle immagini e degli immaginari, soprattutto urbani, se facciamo una carrellata sull'ultimo anche solo biegno, triennio di quello che ci è passato sotto il naso, ci è passato la Smart City, tutti in campagna, la città completamente vuota, si va solo a lavorare, a fruire di servizi, la città dei 15 minuti, le gated communities, insomma una marea di immaginari. Con l'inizio del Covid, se vi ricordate, si è acuito, perché appunto anche lì un giorno sui giornali era via, tutti via dalle città, andiamo a rianimare i borghi, case a un euro, non devono più esistere le città. Dall'altra parte invece tutti in città, ma con i balconi, i giardinetti e le case da 200 metri quadri, perché abbiamo capito che serve lo spazio privato. Insomma, un gran casino, diciamo, con una velocità sempre maggiore di produzione di questi immaginari e oggi diciamo con gli interventi dei nostri tre relatori proveremo un po' a indagare appunto il ruolo che hanno questo tipo di immaginari. La struttura dell'incontro prevede all'incirca un oretto, un oretto e un quarto, io faccio quello che tiene i tempi, prima sbraccio di solito, poi con la voce e poi vabbè ci saranno, performance di altro tipo e quindi io passerei subito la parola in collegamento ad Annalisa Boni, vi introduco io e inizio a introdurla. Annalisa è segretario generale di EuroCities, che è un network che conta più di 200 città distribuita in 38 paesi europei, rappresentando più di 130 milioni di cittadini. Se sbaglio i numeri, prego di... ok, siamo molto di più comunque... ah no, ok. EuroCities si occupa di portare all'attenzione dell'Unione Europea alla necessità delle città in ambito economico, politico, sociale e culturale. Annalisa cosa farà almeno? Speriamo, crediamo, così avevamo condiviso, ma poi chi lo sa, ci aiuterà a mettere a fuoco la posizione dei comuni nell'ambito dell'emergenza pandemica. Come da un lato diciamo c'è stata una grande domanda di risposte, quindi di rete e di soluzioni condivise e dall'altro però al contempo rispetto agli immaginari probabilmente anche un certo tipo di mancanza di immaginari di riferimento con cui andare a costruire risposte agli stress che ha generato questa pandemia. Quindi lascio la parola ad Annalisa all'incirca dieci minuti e poi proseguiamo. Grazie. Una pausa Tu ci senti, Annalisa? Tu ci senti benissimo. Dicono che devi attivare il tuo microfono. Faccio funzione tecnica. È attivato, sembra. Eh sì, questo era... No, era rompigliaccio questo studiato. Forse senza auricolare... A forse... Senza auricolare... No. Con o senza auricolare è identico, sia toglierli che... No, sempre no. Leggiamo il labiale ma non ti sentiamo. Forse ci sia assolutamente. Passiamo al secondo intervento e poi facciamo il tuo. Ti recuperiamo al secondo posto, diciamo. Quindi passo la parola a Alberto Vanolo. Sì, sono io. Perfetto. Che insegna all'Università di Torino dove è professore associato di geografia politica ed economia presso il Dipartimento Cultura, Politica e Società. Sì. Alberto ci aiuta a fare un altro movimento del nostro ragionamento, cioè a comprendere il ruolo delle immagini e degli immaginari delle città come ispirazione per la costruzione di modali di sviluppo urbano e, sotto insieme, diciamo, come ulteriore tema, il ruolo che ha il settore privato e delle piattaforme nella costruzione di questi immaginari. E, svelerò anche, diciamo, non in finale, però, una delle riflessioni che abbiamo condiviso, la portata non troppo trasformativa degli immaginari che ci stanno passando sotto gli occhi, diciamo, nel corso degli ultimi due anni. Prego Alberto, anche tu, 10 minuti. Grazie mille. Grazie mille. Sì, il tema degli immaginari è un tema che mi sta a cuore, è un qualcosa di cui, in modi diversi, ma mi sono occupato negli anni, che torna sotto aspetti diversi. L'immaginario urbano è molto potente perché è un qualcosa che permea un po' tutto. Gli immaginari urbani non sono cose ben definite, comprendono paradigmi dello sviluppo economico, visioni, ma anche slogan, cose molto semplici, che circolano, come tutti i fenomeni culturali legati alla globalizzazione, sempre più rapidamente. Quindi sono pezzi di politica urbana, ma frammenti o visioni e tutta la storia, probabilmente da molto antica anche, ma soprattutto negli ultimi anni, tutta la storia dell'evoluzione urbana può essere letta come l'alternarsi di alcune grandi visioni egemoniche, potenti dello sviluppo urbano. Quindi c'è stato il periodo dei tecnopoli negli anni 90, poi la città creativa e poi la città smart, quella a cui voglio arrivare oggi, che è quello più potente. Ci sono stati anche altri immaginari, magari meno accattivanti, che sono durati di più o di meno. Quello che è interessante è che gli immaginari, come le mode, come i fenomeni culturali, per certi versi scompaiono, passano di moda, nessuno più si autorappresenta come tecnopolo. Sarebbe una cosa terribilmente vecchia. Così come è passata la moda, non so, negli anni 90 era molto diffuso cambiare il nome dei luoghi per evocare l'immaginario della Silicon Valley. Quindi c'è la Silicon Valley, da noi c'è la Etna Valley, per richiamare quel tipo di immaginario. Ma quello che è interessante di questi immaginari è che non scompaiono del tutto, si ibridano, si mescolano fra di loro e si evolvono. Quindi è vero che nessuno si chiama più Silicon Valley perché sembrerebbe un po' grottesco anni 90, però quel tipo di immaginario, l'ideologia della Silicon Valley e quel tipo di immaginario è ancora potentissimo. E così la città creativa non è più uno slogan di moda, ma è come se piace ancora quell'immaginario. E Smart City è in questo senso l'ultimo, il più potente, gli ultimi dieci anni è la visione dominante e raccoglie proprio pezzi anche di immaginari precedenti. C'è molto, se siete appassionati di futurologia per esempio, c'è molto immaginario della modernità anche nell'immaginario della Smart City. Ci sono delle immagini della Smart City che richiamano terribilmente estetiche fantascienza anni 50, c'è molta ricorsività di questi immaginari culturali. La Smart City è interessante per noi perché non è soltanto, anzi tende a non essere una città in senso stretto, una visione della città. È una costruzione discorsiva, un po' tutto da noi nelle scienze sociali tendiamo a dire che è una costruzione discorsiva. Ma la Smart City è fatta di tecnologie, soluzioni tecnologiche che non hanno niente in comune fra di loro in molti casi, cioè sensori che vengono da certe industrie, da certe tecnologie, prodotti da attori molto diversi fra loro. Quello che sembra dare coerenza al tutto è il fatto che sono inquadrate come tecnologie della Smart City ed è per questo che si parla di orti urbani come di sensori mettendo tutto assieme dentro l'immaginario della Smart City che da questo punto di vista è particolarmente flessibile, malleabile, sembra assorbire un po' tutto. Molto si è detto sulla Smart City e molto si è anche criticato rispetto alla Smart City, nel senso che se da un lato il discorso sulla Smart City tende a essere molto celebrativo, per cui sembra che qualsiasi problema possa essere risolto con la giusta tecnologia, con la giusta app, che è tipico dell'approccio della modernizzazione, quindi anche di quel tipo di ideologia. Dall'altro lato soprattutto chi sta dietro una scrivania a fare l'accademico ha scritto molto criticando quanto c'è di semplicistico in questo tipo di discorso sulla città intelligente. La stessa espressione Smart tende a evocare delle valenze morali molto potenti, quindi nessuno può desiderare di vivere in una città non intelligente. La parola stessa che dà una connotazione morale è un codice normativo molto forte, è una tecnologia di performance per cui è esattamente lo spirito dei tempi, si calcola cosa è più opportuno, cosa è più utile, in che direzione deve andare una città. Ora, se consideriamo appunto la Smart City come questo, come un discorso, come una ritorica, come un modello che circola adattandosi a livello globale, i collegamenti fra l'immaginario della Smart City e quello che è avvenuto nell'ultimo anno sono molto molto potenti, nel senso che nell'ultimo anno il Covid, quello che è successo l'anno scorso, è stata un'esperienza per molti versi traumatica, uno shock. Ora, è piuttosto comune nelle scienze sociali immaginare lo shock come una condizione che sospende in qualche modo uno stato di eccezione, che è il primo passo per l'introduzione di regimi anche totalitari, il tipo di letteratura viene da questo. Ora, senza entrare in questo filone, la condizione di shock è comunque una condizione di sospensione della coscienza che permette l'introduzione di cose che tendenzialmente sarebbero avvenute magari più lentamente, con una forma diversa in altri momenti. Ora, il momento in cui c'è stato lo shock della pandemia, di cui, per carità, può essere più o meno, magari siamo ancora dentro la condizione di shock e di trauma, è difficile decodificare anche quando si è dentro, quando si è fuori, ma è stato un momento di grandi discorsi sul ripensamento della condizione urbana. Direi, cavolo, ci siamo improvvisamente resi conto di quanto sia fragile, precaria, non resiliente la nostra città, è l'occasione per un grande momento trasformativo, in questo senso la coscienza del cambiamento era molto forte. Ma il tipo di tesi che propongo qui è che non sia avvenuto questo cambiamento. Un concetto che comincia a prendere piede, più o meno di moda nel mio campo, è l'idea di ipernormalizzazione, che è un termine che ha introdotto un antropologo sovietico descrivendo l'Unione Sovietica degli anni Ottanta, dove diceva che era chiaro a tutti che stava collassando, non ci credeva più nessuno, ma nonostante questo, nell'impossibilità di immaginare un'alternativa a quello, ci si comportava come se fosse reale, si riproduceva, si reificava quel tipo di regime. E mi sembra che sia accaduto una cosa di analogo, pur nella critica all'interno dell'incredulità rispetto alla condizione urbana di quel momento, dove sembravano collassare le basi stesse e la vita urbana, è diventato impossibile pensare a un'alternativa realistica. Per carità è possibile sempre immaginare alternative, ma non hanno alcuna credibilità. E uno dei grandi poteri dell'immaginario egemonico è proprio di immaginare che non ci sia alternativa. È più facile immaginare il mondo sommerso dal mare, l'apocalisse ecologica, che non immaginare un mondo non capitalistico, per esempio. E questo è il potere del capitalismo stesso, secondo gli autori critici, perché ti rende, uccide qualsiasi immaginare di un'alternativa. E questo, per esempio, si vedeva nel discorso cui accennavi, la critica all'idea di densità urbana, per esempio, dove per un attimo la densità urbana sembrava il male, e quindi l'idea di alleggerire l'urbano, andare a vivere fuori, eccetera, ma poi sembra non esistere l'alternativa alla città come noi la intendiamo oggi. E da questo punto di vista mi sembra che quel tipo di immaginario dominante, e cioè la Smart City, abbia avuto un'incredibile accelerazione in questo frangente, in questa condizione di shock e di sospensione. E per citare l'esempio di cui tanto si è parlato, ma mi sembra che non se ne parli più, è passato di moda, il caso, per esempio, di Immuni e delle app per il tracking è emblematico, perché c'è tutta l'ideologia, tutto l'immaginario che una soluzione tecnologica possa risolvere il problema, il dibattito sulle pesanti questioni in termini di controllo, capitalismo e la sorveglianza, che conosciamo bene, e la totale presa di coscienza dell'inconsistenza dei risultati, perché poi non è fallito Immuni, sono infalliti in tutto il mondo le app di tracking, era proprio l'idea alla base, cioè che un sistema automatico potresse risolvere il problema e tracciare, ed è stata anzi, ha confermato l'importanza di metodi qualitativi, di approcci di differente genere. E questo, in parallelo, è notevole l'accelerazione che hanno avuto, il riposizionamento che hanno avuto i grandi attori, i grandi giganti della smart city, delle tecnologie smart nell'ambito della vita urbana. Ora, il discorso sulla smart city è fatto da una pluralità di attori, una sociologia molto complessa, dai guru tecnologici agli amministratori, ma un gioco rilevante, un ruolo rilevante, è giocato chiaramente dalle grandi imprese multinazionali. Grandi imprese multinazionali che non solo hanno visto nel campo delle tecnologie accrescere la propria posizione di mercato, se guardate i dati sulle capitalizzazioni borsistiche, sono impressionanti quanto hanno guadagnato queste società nell'ambito della crisi, ma hanno anche potuto avere un vero e proprio riposizionamento anche morale. Amazon che si autolimita nelle vendite per non esagerare in quel momento, piuttosto che Netflix che chiede di abbassare la banda, di usare in modo ragionevole i propri servizi, o Pornhub che si offre di aiutare l'Inps, è un caso molto divertente, molto astuto di riposizionamento morale, ha potentemente normalizzato la presenza di questi attori nello spazio urbano, nello spazio pubblico, pensate al fenomeno dei rider, quanto esploso e quanto rimane tuttora e quanto rimane sregolato. Per molti versi il grande problema da cui ci occupiamo di sempre è la privatizzazione dello spazio pubblico, per esempio, non è così disgiunto da questo tipo di privatizzazione, perché comunemente io faccio lezioni all'università, la faccio anche online, abbiamo preso anche questa, ma uso una piattaforma privata, non c'è nulla di pubblico, è pesantissima l'erosione del privato e ancora, prima parlando di tracking, non ho citato il caso dell'accordo fra Google e Apple per la gestione dei dati sulla mobilità delle persone, sono questioni enormi, mi fermo se no vado avanti un'ora a parlare dell'aspetto, mi ero appassionato di questa questione. Quella che è l'attesi di fondo e che suggerisco è che non ci sia stato spazio per immaginari nuovi. Ora, la città è ovviamente il frutto di un'evoluzione inumana, lunga, mi sarei stupito, mi guarderei con sospetto a un nuovo immaginario urbano che salta fuori dall'oggi al domani, ma mi sembra che la continuità, mi sembra che non ci sia stato alcun, provocatoriamente lo dico, mi sembra che non ci sia stato veramente alcun cambio di direzione, ma è solo dei cambi di velocità rispetto all'affermarsi di questi immaginari, dell'immaginario della Smart City, e cioè momenti di rallentamento e momenti di forte accelerazione rispetto a una traiettoria che sembra in qualche modo una visione del futuro che è semplice estrapolazione del presente, senza alcuna possibilità di una riflessione anche politica rispetto a tutto questo. Grazie, grazie mille, devo dire che è un bel inquadramento lucido e ci ha aiutato ad adottare un punto di vista esterno e dal mio punto di vista lucido. Riproviamo con Annalisa, direi che ci dovremmo essere. No? Sì, benissimo, ma in coro hanno risposto tutti. Prego Annalisa. Prendiamo la cosa al volo. Ti ho già presentato e se non è un problema ti lascio subito così la parola dopo il primo intervento di Alberto, grazie. Buonasera, buonasera veramente a tutti e a tutte, sono contentissima, purtroppo non di essere con voi fisicamente ma almeno con voi col cuore e con la linea, perché comunque io adoro Torino, sono tanti anni che non ci vengo più da un bel po' e quindi vabbè insomma mi faceva piacere essere con voi. Vabbè, EuroCities l'hai già presentata abbastanza bene, devo dire, grazie. Comunque il concetto è che in questa rete c'è veramente tanto scambio strutturato di esperienze fra comuni e sindaci da un lato e dall'altro un dialogo permanente fra appunto le città e la Commissione e il Parlamento europeo eccetera le istituzioni su tutte le politiche europee che impattano le aree urbane, che come sapete visto il periodo che ha il Green Deal, il Fit 55 e tutte, diciamo tutte queste nuove regolamentazioni ce n'è a Iosa e che poi il next generation che arriva, quindi voglio dire il, come dire, l'impatto sulle città di tutte queste politiche pubbliche europee sono veramente tante, quindi il dialogo è assolutamente necessario, quindi questo è un po' quello che facciamo. Ora non mi ricordo più la tua domanda, però mi sembra di capire un po' l'idea era quella di vedere queste narrative urbane, questi modelli, come funzionano, se nelle città trovano concretezza, adesso mi sembra di ricordare quello che mi hai chiesto prima, però quello che potrei dire sicuramente è che da, insomma, sono tantissimi anni che vedo tante città, evolversi, eccetera, ne ho vissute, ho vissuto in tante, eccetera, però chiaramente ci sono tanti modelli, non c'è un modello, come sapete bene, no, intorno al futuro della città, abbiamo sentito parlare prima per quello che sono riuscita a seguire della Smart City, di queste cose un po' classiche, però poi negli ultimi anni anche tante città si sono un po' ribellate, no, questo modello chiamato Smart City perché era troppo scussato sulla tecnologia, non metteva abbastanza le persone al centro delle politiche e via dicendo e quindi hanno iniziato a chiamarla, non so, the city of the people, come Ghent, no, la città di Ghent che ha proprio fatto una specie di ribellione sulla parola, proprio il concetto di Smart City e la sua strategia urbana chiamata the city of the people, oppure la città circolare di Amsterdam, no, la Green City, insomma tutti questi, tutti questi vari modelli, no, e quindi sono tutte narrative che alla fine cercano in qualche modo di portare, di portare la visione della città verso una risoluzione di tutti, di tutte le sfide che si concentrano nelle città che sono insomma il clima, le ineguaglianze, la transizione digitale equa eccetera, democratica, che quindi porta a, come dire, avere una visione, una narrativa che vada verso una visione positiva di buona qualità della vita, no, per tutti, quindi sono tutti modelli diversi, la città dei quindici minuti, però il concetto è l'idea di pensare a una città dove la qualità della vita è migliore, dove si vive bene, più sani, dove la città è più verde, più accogliente, più dinamica, più a misura d'uomo eccetera, che una città che non lascia indietro nessuno, quindi ecco, quello che volevo dire è che secondo me ora siamo in un momento storico che fa sì che queste narrative in qualche modo, nella direzione che ho detto, sono narrative che forse hanno la possibilità effettivamente di concretizzarsi, uno perché, io direi per due o tre fattori, uno perché c'è stata appunto la crisi che ha messo in evidenza le debolezze e quello che non funzionava e le ha aggravate e quindi in qualche modo aumenta la velocità e la possibilità e crea, come dire, la possibilità di fare delle cose che prima si pensava vanno, accadranno solo più avanti eccetera eccetera, quindi in qualche modo le condizioni per cambiare e anche per farle chiedere dalla gente eccetera ci sono. E poi in questo senso anche la pressione della gente per esempio sul tema del clima e di una giustizia sociale, no? E quindi il fatto di avere una comunque partecipazione cittadina o comunque proprio tutte queste citizens science initiative, no? Queste iniziative dove proprio sono le persone, noi facciamo parte di una, dove misuri la qualità dell'aria nel tuo quartiere eccetera eccetera, insomma le persone, sempre più persone sono attive, vogliono far parte della, proprio anche di questa, della sfida, della risposta alla sfida climatica eccetera eccetera, quindi c'è comunque una pressione esterna verso i policy makers che comunque secondo me è un'opportunità e tre, il quadro regolamentare del Green Deal e tutta la finestra finanziaria data dal next generation che comunque non è poco, magari non per stati diversi dall'Italia, c'è altri dell'Italia tipo non so i nordici eccetera che hanno pochi soldi ma nel nostro paese per esempio c'è un bel po', c'è un bel gruzzolo, quindi ecco voglio dire tutte queste cose fanno sì che forse questo è un periodo in cui si può portare avanti narrativi di questo tipo anche proprio a livello, a livello concreto, è chiaro che per fare, rimangono cose come dire divisioni, teorette, come dire visionarie, teoriche e via dicendo perché comunque ci sono barriere che vanno assolutamente trasformate in opportunità come le barriere come dicevo regolamentari per esempio tutta la legislazione nazionale che ne so sull'efficientamento energetico e via dicendo, pure le barriere finanziarie che però insomma i soldi ci sono ma come si spendono, insomma tante cose che sono necessarie per raggiungere questo tipo di visione per esempio della città dei 15 minuti, cioè devi avere comunque una visione per esempio sistemica della città, non vista in settori la mobilità da una parte, l'energia dall'altra, quello dall'altro, insomma molto spesso anche tutto il tema della neutralità climatica non viene, cioè si fa fatica a metterlo come obiettivo perché richiede una trasformazione olistica della cosa, quindi ecco quello è un elemento e la governance anche deve assolutamente cambiare, non ci può essere una trasformazione verso una di quelle immagini come non so la città circolare se non hai una governance dove ci sono tutti, cioè che fanno parte di avere l'idea di raggiungere questa città, quindi un ecosistema locale completamente dentro al gioco, un'amministrazione innovativa, una finanza sostenibile, insomma una mobilitazione enorme di tutti gli attori, dei cittadini e via dicendo e quindi insomma ecco anche una governance che sia in grado di trasformare, che crei le basi per una trasformazione anche dei comportamenti, della cultura, delle abitudini, delle conseguenze della maggioranza, insomma ecco, quindi qui alla fine quello che dico è che queste immagini sono, allora prendiamo questo periodo per raggiungerle, secondo me alcuni sindaci hanno capito che è una buona opportunità questa e quindi anche nelle azioni che fanno le portano avanti queste visioni, però trovo che forse le portano avanti in maniera pragmatica e quindi tutte queste trasformazioni necessarie, che sono necessarie, alla fine diventano quasi, prendono la forma di trasformazioni pragmatiche e progressive, come se fossero una macchia di leopardo, non so come dire, quindi con delle sperimentazioni in alcuni quartieri, in alcuni settori, con alcune persone eccetera, innovazioni, pratiche specifiche, politiche di quartiere, insomma anche lì per esempio lavoriamo tanto in questo senso perché vediamo che le città si ispirano una dall'altra per andare verso una sostenibilità della loro città in senso lato, quindi ecco reinventare la città però farla quasi a pezzetti piano piano in maniera progressiva e facendo in modo che venga dal basso e quindi questi modelli pian piano accadono, però ecco è un po' è complessa comunque la cosa, ma è bufo perché l'anno scorso nel nostro rapporto annuale abbiamo detto dopo un anno di pandemia, facciamo il solito rapporto di attività che dice abbiamo fatto questo, questo e questo, no, facciamo un rapporto diverso, lo chiamiamo reinventare le città e praticamente abbiamo fatto un collage di tutte le buone pratiche, innovazioni, misure che le città hanno messo in piedi nei vari settori durante la pandemia ma anche nella fase più di ripresa e l'abbiamo chiamata la città ideale, la Eurocity e quindi basata su insomma mi pare 200 buone pratiche che mettevano insieme in qualche modo tutte queste diciamo sperimentazioni buone pratiche eccetera che creavano un po' l'idea della città del futuro, ecco quindi vabbè non so se ho risposto alla tua domanda o se è stato complesso. No no, è molto molto utile direi complementare rispetto al ragionamento che ci ha illustrato Alberto, due piani che lascerò a Cristina provare a fare sintesi, no scherzo, nel senso che abbiamo mischiato molti aspetti perché da un lato c'è il tema appunto del usavi immagine dominante, immaginare totalizzante che effettivamente è un qualcosa che è come se fosse lo sfondo o quello che racchiude tutto i movimenti che facciamo e quello che andiamo a creare, dall'altro invece Annalisa ci sottolinea le grandi opportunità e pressioni che abbiamo in questo momento e delle risposte che invece sono già emersi in modo molto concreto dalle città e che possono a loro volta essere semi di nuovi immaginari perché magari partono da una piccola pratica, non te lo aspetti proprio col punto di vista invece classico che abbiamo oggi a Valanga, il grande disegno, almeno che ho io, il grande disegno che poi calia e invece magari è da quello che esce altro. Quindi lascerei la parola a Cristina Bianchetti che insegna urbanistica al Politecnico di Torino, è presidente del Nucleo di Valutazione dell'Università UOV di Venezia e ha coordinato il secondo esercizio di valutazione nazionale della ricerca universitaria per l'area architettura. In bocca al lupo. No, ma io non mi ci provo. Abbiamo parlato pochi minuti e subito si è rivelato un oggetto scivoloso, imprendibile, non definito nei contorni, dovremmo parlare per molto tempo, però qualche cosa mi sembra utile raccogliere e poi fare invece il compito che mi hai dato. Io ci sono molte cose che condivido e alcune cose che invece non condivido, ma questo non ha nessuna importanza. Mi sembrava importante delle cose che diceva Alberto, mi sono segnata, le dico in senso affermativo, molto mi scuserai, però l'idea che gli immaginari non si esauriscono, che abbiano un carattere composito e che le grandi crisi, e qui un po' in una posizione dialettica con l'analisa, non cambiano tanto lo sfondo, cosa che anche altri hanno cominciato ad osservare e se avessimo un po' di tempo racconterei le posizioni di un amico, di Mirko Zardini, che ha provato ad osservare quattro grandi crisi degli ultimi 50 anni, dice che sono cambiate le pratiche quotidiane, insomma sapete nel 73 la crisi energetica, la crisi sicuritaria nel 2001, la crisi economica nel 2008, chissà questa cosa, succederà, cambiano le pratiche, ma questa cosa non cambia lo sfondo, in pieno accordo con le cose che dicevi. Sulla questione Smart City bisogna vedere, mi sembrava usata un po' come una metafora che accoglie moltissimo tutto quel che riguarda le nuove tecnologie e questo mi mette un po' in difficoltà. Io parlo dal mio punto di vista, insomma, quindi non parlo di immaginari, non parlo di modelli, parlo di figure, è una cosa un po' diversa, di figure della città, di figure urbane. Sono d'accordo con, in realtà ci siamo anche già visti, quindi questo è un accordo che si è costruito anche con quanto, diceva Matteo prima all'inizio, e riprendevano poi entrambi i redatori che mi hanno preceduto, l'affollarsi di immagini e figure, io appunto rimango su quelle, vecchie e nuove, negli ultimi tempi è stato importante, però se sono figure, non è solo la Smart City, le figure sono questa benedetta città a 15 minuti, la città arcipelago, che è una vecchissima idea, vecchissima no, una vecchia idea con padri nobili, che viene ripresa in epoca pandemica e si cerca di riutilizzarla, la città territorio, la città che ha un orizzonte interno, include grandi territori rurali, foreste, acque, e quindi è una città con una figura completamente diversa, la città immunitaria che lavora sulle lotte di confine tra esposti e protetti, e quindi introduce a tutt'altro temi. Secondo me diminuisce, almeno nell'archivio che io osservo, il rilievo della Smart City, di cui si è già detto tanto, ma anche della ville partagée, di tutto quel che riguarda la condivisione, condividere in piccole cerche, con amici, con vicini, progetti, utopie, idee, valori, quant'altro. Quindi questa cosa però, ha detto prima giustamente Alberto, non deve stupirci, perché la città è un motore potente di immagini, della società, delle istituzioni, della politica, e ogni volta che cambiano i pesi, gli equilibri tra società, economia, politica, territorio, questi si depositano in un'immagine della città. Quindi, e questo è un momento assoluto di cambiamento. Allora, cosa sono queste benedette figure? Sono dei progetti, mi sembrava di cogliere in analisa questo carattere, il divenire che ci impegna, diceva Delosa, o sono retoriche? Lo dico in senso positivo, poi può darsi e dirò subito che siano l'una e l'altra cosa. Sono degli strumenti per acquisire consenso, per acquisire fondi, o sono delle chiavi per capire come gli abitanti fanno esperienza del loro essere al mondo, raccontando il contesto. Probabilmente sono tutte queste cose insieme, no? Dipende, e qui, scusatemi, è un ritornello che si fa spesso in chi studia le cose che si fa, dipende dall'uso che se ne fa. Vedo che Chiara annuisce avendo riconosciuto la cosa. Dipende da là. Allora, noi siamo soliti pensare che un buon uso sia un buon uso nella pratica, che le immagini debbano avere un legame forte con le pratiche, altrimenti sono il passatempo per degli spaticati che non hanno di meglio da fare. Però dietro questa frase, se ci pensate, c'è l'idea che l'utilità delle immagini coincida con l'utilizzabilità delle immagini, no? Un'immagine è utile se è utilizzabile. Pensate a quante cose sono utilizzabili e non sono affatto utili. A mio giudizio l'idea, la figura della città a 15 minuti. È utilizzabile, è stata utilizzata tantissimo. Non credo che sia molto utile raccontarci la condizione della città contemporanea. Allora, voglio dire una cosa molto semplice, che questa questione bisogna lasciarla aperta, che non si può pensare che ci sia un uso, che questi siano o retoriche o progetti o altro. Sono quello che è. Questo dipende dall'uso che ne viene fatto e questo invita ad andare fuori e guardare gli usi, cioè ad un appoteggiamento empirico. Questa è la prima cosa che mi sembrava importante un po' sottolineare rispetto alla cosa. Poi, l'altra cosa che mi avevi chiesto un po' e che però è già stata affrontata e mi interessa molto, questo vuol dire che ha funzionato il nostro parlarci un po'. Cosa sta succedendo oggi? L'ha detto Alberto, l'ha detto per altri versi in modo di non concordi analisa. Io ho detto prima che nel momento in cui cambiano i rapporti tra l'economia, la politica e le istituzioni, questi si depositano in immagini e in questo momento, è banale anche solo accennarlo, ma insomma c'è un paradigma immunitario che ha cambiato completamente i rapporti tra società e economia, che ci ha riposizionato, ci ha riposizionato nello spazio fisico, nello spazio fisico di questo luogo, in fila. Io ero venuta anche altre volte, ci ha riposizionato nello spazio urbano, lo diceva credo prima, o vanno lo analisa, non ricordo, nello spazio sociale, quello educativo, relazionale, affettivo, lavorativo, insomma, nello spazio del controllo, delle limitazioni della libertà, non è una questione che si possa affrontare in modo troppo leggero. Allora, in questo, che tu hai chiamato shock, no, qualcuno ha chiamato shock, tu, Alberto, hai chiamato shock, in questo shock, in questo cambiamento, io dico, del nostro posizionamento nello spazio, queste cose, ha creato un disorientamento fortissimo, e la prima cosa che si è fatta è aprire i cassetti e tirar fuori quel che c'era. E quindi, anche scontando, se volete, delle scelte un po' sconclusionate, no, idee che erano già state formulate, per esempio la Smart City, che ha una storia che tu conosci meglio di me, ma molto, molto più storia. Poi, però, ci si è accorti che, almeno, questa è la mia ipotesi, poi, insomma, è per discutere, che quelle cose lì erano troppo fragili, erano troppo... a fronte della radicalità, delle questioni, proprio della profondità anche delle questioni che la nuova situazione ci poneva, quale immagini? Non funzionava mica, perché adesso, io credo che il problema che c'è stato posto da Urballa, e ringrazio, non l'ho fatto prima, scusatemi, il problema che c'è stato posto è un problema importante, perché il dramma delle immagini in questo momento è che quelle vecchie non servono più e quelle nuove non ci sono ancora. E quindi, quelle nuove, io non so se ci saranno le nuove, probabilmente sì, se poi vengono utilizzate, appunto, come marchio, cioè, figuriamoci, ne saremo ancora travolti. Ma il problema è che, è quello che cercavo di dire, ci sono delle questioni che sono questioni che si sono rivelate in tutta la loro radicalità, direi drammaticità, però qualche volta, anche se pensate alla questione della vulnerabilità, certo che è una questione che si è rivelata nella drammaticità, perché noi siamo vulnerabili, noi respiriamo l'aria che respirano altri, condividiamo le superfici, il suolo, e il territorio è vulnerabile, adesso è inutile stare a insistere su questi punti, credo che sia ben chiaro a tutti quanti. Però, però, la vulnerabilità non è mica un piano orizzontale che attraversa noi tutti allo stesso modo, la vulnerabilità è scomposta, è qualcosa, cioè, si è accorti subito che qualcuno era più vulnerabile di qualcun altro, e anche qui, e rintroduce la questione della differenza, come una forza dirompente, differenza che è di razza, di genere, di età, di provenienza geografica, qualcuno dice tra corpi umani e corpi animali, però lì ci apriremo veramente, già ho detto all'inizio, questo è un tema, che fatica ad essere contenuto, se apriamo anche quella porta lì, non ne veniamo fuori, no? Quindi, un tema come la vulnerabilità, un tema come la coesistenza, che non è mica la coabitazione, che è così, che, come dire, è una soluzione ben educata, conciliante, no, la coesistenza è qualcosa di molto diverso, è conflittuale, è letale, convivere con il virus è risultato letale a molti, no? Allora, questi temi hanno pluralità, vulnerabilità, coesistenza, differenza, aprono alle immagini la possibilità di non essere più il marchio dell'amministrazione, ma in qualche modo di avere un carattere, scusatemi, etico, politico, perché nel momento in cui riescono e di intercettare queste questioni, poi possono essere anche le vecchie immagini, cioè poco importa, a me, francamente, la Smart City, la Green City, quella roba lì, ricorda la città di Piccinato, ma Luigi Piccinato, anni 40, la città bella, economica e confortevole, non mi ricordo esattamente, forse Giulietta lo ricorda meglio. Non mi importa che siano vecchie o nuove immagini, però se riescono ad intercettare queste questioni, insomma, riacquistano, a mio giudizio, un carattere pubblico e per il discorso sulla città si apre anche la possibilità di avere, finalmente, ho detto, poi l'uso che se ne farà sarà quello che ho detto prima, sarà quello che sarà, anche questo non è importante, però un carattere affermativo, che in una situazione così difficile come quella in cui siamo, in cui ci illudiamo un po' di essere venuti fuori, ma insomma in cui siamo ancora dentro, non ci consegni al nichilismo, non ci consegni al lutto, alla malinconia, ma sia operativa. Ecco, quindi, se volessi riassumere, cosa che, come hai capito, non ho fatto, ma secondo me ci sono due o tre punti importanti nel nostro discorso e la percezione di una latitudine del discorso che francamente ci sovrasta, perché le cose che ho richiamato alludono ad un tema che è ancora sullo sfondo, che sta diventando una nuova ortodossia, che ha il rapporto con la natura, ma insomma, vabbè, non affogliamo di altre cose. Grazie. Allora, domande dal pubblico. Abbiamo ancora un po' di tempo, se c'è qualche domanda, prego il coraggioso o la coraggiosa di palesarsi. Prego. Buonasera a tutti. Io sono d'accordo con il professore quando dice che la crisi non ha cambiato la direzione dell'immaginario e dello sviluppo urbano, ma ha solamente accelerato un fenomeno, cioè il fenomeno della Smart City, ad esempio. Io credo che il sistema capitalistico, come è stato detto prima, non permette, secondo me, rivoluzioni in questo momento. Nel senso, la troppa complessità del sistema, secondo me, stanca, comunque, satura le idee. E secondo me, lo shock della crisi non ha prodotto uno shock nelle idee, nello sviluppo delle idee, anche nel contesto della rigenerazione urbana, dello sviluppo urbano. Io mi chiedevo una domanda più tecnica. Secondo voi, il piano regolatore comunale deve essere riscritto in maniera sempre più multidisciplinare, democratica e partecipativa? perché se no risulta, scusi, se no risulta sempre solo l'espressione di una elite che, secondo me, detta una linea che può essere anche distante da quello che è, appunto, l'immaginario della popolazione. Ecco, non so se si è resa l'idea. Un bel salto dal capitalismo al piano regolatore e vi lascio. No, 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 chiarissimo, ero ironico. Io non parlo nel campo in piano regolatore però in piano regolatore credo che sia un tecnico che forse non è proprio alla portata di una scusa. Si stabilisce un punto del suo no, cioè il piano regolatore stabilisce anche aspetti strettamente tecnici, urbanistici, altezzi ed edifici, forse questo non è esattamente oggetto di una discussione politica, pubblica, però ci sono altri piani, per esempio i piani strategici che fissano le visioni dello sviluppo, questo idealmente dovrebbero essere questo. Io nel mio discorso apparentemente rassegnato, forse anche scazzato, del tipo non succede nulla, non voleva essere una negazione della storia, accadono cose, accadono iniziative evidentemente. Io intendevo, voi sapete esiste questa, senza fare citazioni troppo pretenziose, quel famoso saggio sulla fine della storia, la storia non è la fine degli eventi, è la fine di un contrasto con un'ideologia differente, con un'alternativa. Ora, il capitalismo è cambiato potentemente, le città, lo spazio, ha un ruolo potente nel plasmare il capitalismo, nel senso il fordismo esiste perché esisteva la città fordista e la città fordista rendeva possibile il fordismo. Faccio esempio il fordismo a questo vale per ogni tipo di mio lavoro, io sono un geografo, studio questo, come tutto abbia un'espressione spaziale. Ora, la pianificazione territoriale, compreso forse in qualche modo anche il piano regolatore, anche se è un documento molto tecnico, non solo rende, pone le condizioni per tutto questo, ma è anche un modo di regolare il capitalismo, di mettere, di renderla in qualche modo più addomesticabile e quindi la città fordista non era solo produrre spazio per la produzione, per la fabbrica, era regolare l'intera società in un modo che idealmente poteva essere vivibile per questo. Ora, quel capitalismo lì non esiste più, non è vero che non esiste più, è cambiato, non è più quello dominante, ci sono ancora le fabbriche, le produzioni, tutto questo, ma non è, se voi guardate la classifica degli uomini più ricchi al mondo, non c'è nessun industriale, non c'è nessun petroliere e sono altre le cose che generano, che sono altamente sregolate nel capitalismo e sono totalmente sregolate dal punto di vista urbano, cioè se il conflitto sociale, l'accumulazione di potere non è più nella fabbrica e da qualche altra parte ed esattamente cosa sta facendo la città, si pone l'interrogativo di come regolare tutto questo, ce l'ha un'espressione spaziale, ma non c'è un, era questo il tipo, la trasformazione avviene nel momento in cui si sfida una certa distribuzione del potere che invece è estremamente accentrata e genomonica, il capitalismo se vogliamo chiamarlo tale, ammesso che si chiami ancora capitalismo, ha assorbito tutto, pensate, si parlava di sostenibilità prima, cavolo, sostenibilità era un concetto radicale all'inizio, poi è incominciato a diventare la sostenibilità e quel gioco magico di prestigio che coniuga l'ambiente è con la crescita economica, ma come diavolo fai a coniugare crescita economica e sostenibilità ambientale? Sì, ogni tanto ti riesce il gioco, ma non è la norma, io poco fa ero rimasto scioccato, ho visto, non guardo mai la televisione, so che snob dirlo, però ho visto un presentatore televisivo che faceva la pubblicità di bottigliette di acqua minerale sostenibili, ma di cosa stiamo parlando? Non c'è niente di meno sostenibile, puoi farla con qualsiasi plastica riciclata, ma è l'idea stessa che tu possa fare la distribuzione dell'acqua attraverso le bottigliette che... è stato nominato il greenwashing, lo spirito del capitalismo, va bene, ci si adatta, e in questo senso cambiano molte cose, ma anche assolutamente in modo positivo, non c'entra niente, ma per esempio la sensibilità che c'è oggi rispetto alle questioni di genere, per esempio, beh cavolo, è importante, molto differente rispetto a pochi anni fa, non è sempre la riproduzione della stessa cosa, ma in questo momento mi sembra che dal punto di vista della produzione di immaginari, perché no, da quel lato lì mi sento di dire che la mia impressione, per carità, non lo so, poi ci sono dentro fino al collo anch'io, quindi non è che sia parli da una posizione esterna, mi sembra di no, sì, l'immagine, impiccinato, certo, anzi, c'erano proprio dei testi di futurologia, si parlava della città del futuro e scriveva delle cose assolutamente leggibili anche oggi da questo punto di vista. Grazie, lascerei la parola ad Anna Lisa in collegamento. Sì, mi sentite? Sì, benissimo. Ok, no, magari dire una parola sul tema del piano regolatore, no, adesso, sicuramente è uno strumento tecnico, eccetera, però il concetto anche, cioè il concetto è quello anche che volevo dire prima, che se si vuole trasformare la città in un certo modo, con una visione che va verso una sostenibilità intesa in senso globale, quindi non solo ambientale, ma più larga e integrata, richiede anche che la, come dire, l'organizzazione degli strumenti o la concezione degli strumenti che andranno a sviluppare la città, aiutare lo sviluppo della città e organizzarla, siano integrati, siano pluridisciplinari, siano olistici, sistemici, quello che volete, comunque avete capito cosa devo dire, cioè che rompano i settori che lavorino assolutamente con un concetto molto più partecipativo e quindi con uno spirito e una metodologia molto più partecipativa e che siano in grado di funzionare proprio come anche strumenti di trasformazione della città dal basso e basati su un partenariato, come dicevo prima, con tutti gli attori, quindi secondo me è assolutamente importante che in questo senso l'amministrazione, per esempio comunale, provinciale o quella che fa la pianificazione, quindi comunale o metropolitana, insomma sia un'amministrazione capace di prendersi questo tipo di responsabilità e di cambiare alcune cose, di innovarsi, di assolutamente anche cambiare il modo in cui interagisce con la cittadinanza e il modo in cui crea le proprie politiche, poi penso che a Torino le cose, non lo so esattamente, però in alcune città italiane si riesce abbastanza a fare partecipazione in questo senso, in altre città europee è ancora meglio, però ecco, secondo me la domanda o comunque la questione dei piani urbanistici o dei piani strategici della città, ma anche quelli urbanistici che siano integrati e appunto basati su una governance partecipativa è assolutamente un'ottima, cioè è veramente un punto cruciale, un punto molto importante. Grazie mille, grazie. Farei chiudere, ancora. Ma solo una battuta perché ci tengo a rivendicare la possibilità di dire qualcosa sul piano regolatore, nel senso che, però la prendo un po' alla larga, dalle cose che diceva in risposta alla domanda del ragazzo di Affronte, che diceva Alberto, quando diceva il capitalismo si deposita al suolo, non ha usato queste parole, però lei lo diceva. Io francamente ho qualche difficoltà a parlare di capitalismo, anche questo credo di condividere un po' il senso, perlomeno, delle cose che diceva Alberto. Già negli anni 40 Polanyi aveva fatto capire, e siamo negli anni 40, che ci sono forme di accumulazione e scambio che non sono ingabbiate all'interno della classica macchina capitalista. Però la cosa importante non è tanto questo, ognuno poi parla con un po' sceglie, lessico, i termini che ritiene. La cosa importante è che si deposita al suolo e quel depositarsi al suolo richiede qualche forma di regolamentazione che deve essere discussa, deve accogliere tutti gli spunti, deve accogliere, si deve riflettere anche in un'idea, perché non è solo l'espressione tecnica di una competenza, è anche un'idea. Io sono cresciuta nella stagione degli anni 80, quando si facevano, ero già grandina, però si facevano i piani che avevano l'ambizione di raccontare la città di fine secolo e beh, insomma, lì c'era un'idea, c'era bella, brutta, insomma, che fosse. Allora, da una parte il piano veicola un'idea, dall'altra parte regola gli usi del suolo. Queste due cose necessitano di tutti i dialoghi che volete, ma necessitano anche di una competenza senza la quale non si danno, insomma, semplicemente si danno a documenti di altra natura, programmatici, che è il compito dell'amministrazione mettere a punto, che è cosa che fa nel dialogo. Poi, tra multidisciplinarietà e partecipazione c'è una bella differenza, non è che la partecipazione implica la multidisciplinarietà perché le teste sono tante, multidisciplinarietà è un altro di quegli idola che continuano ad essere soprattutto in ambiente accademico continuano ad essere richiamati e mai messi al lavoro. Io credo che la situazione in cui siamo, non so se sono pessimista o ottimista in questo, i temi che io ho richiamato prima per richiamarne due, pensate poi non ho toccato tutti gli aspetti legati alla natura, quelli implicano la multidisciplinarietà, l'abbiamo tanto invocata, adesso siamo costretti, non possiamo eluderla, però non siamo capaci e quindi, insomma, non solo le immagini sono in una situazione di difficoltà, anche noi lo siamo e non so se, non sono un urbanista normativo, io chi mi conosce lo sa perfettamente, ho fatto, appunto, ho partecipato alla costruzione di piani regolatori negli anni 80 e poi qualcosa ma quasi niente, però la cosa che ho detto ci tengo abbastanza, vanno cambiati in questo perfettamente ragione, non so se vadano cambiati in senso olistico ma qui si tratta di, come sempre, insomma, di mettersi d'accordo sulle parole, nel senso comprensivo, olistico, io credo, forse si può parlare di una città anche in modo diverso, però forse non ci intendiamo bene, avremmo bisogno di un dialogo più lungo per capirci, vanno cambiati sicuramente, ci mancherebbe che rimanesse quello strumento che è stato dileggiato anche giustamente, perché, però, però attenzione, perché comunque noi usiamo il, il suolo lo usiamo entro certi codici anche, anche trasgredendoli, però, insomma, in qualche modo ci deve essere qualcuno che li definisce, non è una difesa, non volevo chiudere quella difesa, proprio è contro tutto quello che ho fatto negli ultimi vent'anni chiudere con una difesa del piano regolatore che avrei lasciato volentieri a qualche mio collega di dipartimento. È andata così. È andata così. Allora, direi che abbiamo finito il tempo a nostra disposizione perché sono già le otto e un quarto e vorrei ringraziare tutti innanzitutto e ringraziare Urban Lab e le persone che hanno preso parte qui e via streaming. La cosa che mi porta a casa così, provo a buttare e poi diamo la parola a tutti voi anche per salutare e ringraziare e io non riesco a fare la sintesi perché è uscita a molta complessità abbiamo trattato di piani a vari livelli e credo che questo sia stato molto arricchente per ragionare intorno al buco che era l'oggetto un po' dell'incontro. Io, quello che mi porta a casa io non ho alcun tipo di conoscenza né di architettura né di altro ho leggiucchiato qualcosa di recente mi sono imbattuto in Hugh Ferris che era questo disegnatore che negli anni 40 no, negli anni 20 direi faceva i disegni di Grattaceli a New York per venderli perché chiaramente non è che c'erano le stampe così bisognava fare dei bei disegni affascinanti e in realtà i suoi disegni e il modo in cui rappresentare le cose sono quelle che hanno costruito l'immagine l'immaginario l'immagine non lo so della città occidentale oggi inteso come la Gotham City la New York quindi la città lugubre anche lì c'entrava col piano regolatore perché i disegni facevano in proporzione ai vincoli che gli aveva andato dopo il primo giro di Grattaceli che andavano più o meno ovunque e io volevo chiudere tutto questo intervento dicendo chi sarà il nuovo Hugh Ferris chiedendovelo a voi facendo quello che conosceva Hugh Ferris e così e invece mi porto a casa che siamo costretti alla multidisciplinarità e quindi sicuramente gli immaginari che andremo a costruire domani non saranno disegnati con un carboncino su un foglio o magari sì ma con ogni probabilità quello che ho portato a casa io da questo incontro è che saranno la commissione di tanti saperi probabilmente anche di tante forme che andranno a disegnare insomma futuri possibili grazie ancora vi lascio anche a voi la parola per salutare e ringraziare è stato davvero un piacere grazie grazie anche per noi è stato un piacere grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti